Un saluto dal Comune di Monte di Procida, siamo con il Sindaco Peppe Pugliese. Questa mattina c'è stata una riunione molto importante con le Forze dell'Ordine. Di che si è parlato e cosa avete deciso? Si, hai detto bene. Questa mattina c'è stata una riunione importante con tutte le Forze dell'Ordine. Era presente il Comandante Perna per i Carabinieri, il Comandante Alloni per la Guardia di Finanza, Carputo per la Capitaneria per disciplinare dei problemi di sicurezza riguardo nel porto, il Comandante Ugo Mancino per la Polizia Municipale e mi sono sentito anche con la Polizia di Pozzuoli che non è potuto essere presente per dei problemi insorti lì sul territorio, ma hanno promesso che rafforzeranno il presidio del territorio. Allora, diversi temi trattati. Innanzitutto il maggior presidio del territorio. Io già so che le Forze dell'Ordine sono continuamente e in maniera incessante impegnati contro gli eventi criminosi sul territorio, ma abbiamo deciso di incrementare, ho chiesto con forza, di incrementare ancora di più il presidio, anche con dei posti di blocco unificati di diversi, proprio per dare un segnale forte. Questo è un comune presidiato, questo è un comune in cui chi mette piede deve mettere piede dal Monte di Vlocita per venire a mangiare un po' un panino, per andare in uno dei nostri peggiovoli ristoranti, per fare un bagnato acqua morta, ma non per commettere eventi criminosi. Quindi questo è un primo messaggio forte. Si è parlato di videosorveglianza. Io voglio chiarire un principio. La videosorveglianza non è la panacea di tutti i mali. Oggi qualsiasi cosa succede, mancava la telecamera. Non illudiamoci che si possa controllare tutto il Paese, un telecamera che possa esistere questa sorta di grande fratello. Però, soprattutto nell'interazione tra l'ente comunale e le Forze dell'Ordine, è importante strutturare un supporto che il comune può fare attraverso le proprie telecamere. Questo lo stiamo facendo. Abbiamo delle telecamere che controllano anche le targhe. Sono al vaglio delle forze di polizia, diciamo, tutte quelle che sono le nostre registrazioni. Non escludiamo che possono esserci dei risvolti. Però, altro aspetto importante, noi stiamo rafforzando il sistema di telecamere. Stiamo rafforzando. Aspettiamo, si è bloccato un grande ordine Consip, per problemi che prescindono da quello che oggi lo Stato ci obbliga ad acquistare su Consip. È stato un mega ordine e, purtroppo, è rimasto bloccato. Noi abbiamo sollecitato con forza e ho suggerito anche al comandante della Polizia Comunicipale intanto di attivarsi per noleggiare delle telecamere, proprio per presidiare comunque in maniera ottimale il territorio. Quindi, da questo punto di vista, noi ci struttureremo ancora meglio. E poi, diciamo, abbiamo verificato tutta una serie di possibilità, anche, diciamo, divulgativa, per far capire a chi viene da fuori che Monte di Procida è un comune sicuro e videosorvegliato. Quindi, secondo me, una riunione molto produttiva, a cui seguiranno sicuramente dei riscontri. Quindi siamo vicini alla popolazione e capiamo la grande preoccupazione che c'è a Monte di Procida. Non è un caso che abbiamo anche prolungato l'orario della Polizia Municipale che sarà presente anche in alcune ore, diciamo, successive all'ordinario orario di servizio e quindi un comune ancora meglio presidiato anche dalla Polizia Municipale. Le stiamo pensando tutte per avere un comune più sicuro e più tranquillo.